buongiorno non so se vedete la buco io potete vedere la faccia buongiorno non prendo molto bene a pompa non ti senti nel meglio e condizzi No, è bene, è bello, ho lasciato power up, più tre, buono. No, è stato fatto. No, è stato fatto. Sì, 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 sì Prima di essere ammazzato Non do bene Allora, devo portare il mio 3 al 10 Almeno al 10 lo porto Ho visto una giornata la mappa Molto bella La musca Si fa togliere la supervivenza Cos'avevo ora, mi sono cambiato Sono a mezz'ora Allora, devo portare il mio 3 al 10 lo porto Se quando ho gioco non mi sentito parlare Perché mi concentra Mi fa un bagno Non, perché spostava? Sì 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 È Sì 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 5 copp 4 copp 1236 allora cambiiamo un tema football il football è stato meglio con con il primo il 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 Grazie a tutti